buongiorno buongiorno di nuovo amici di canale youtube amici di gruppi e tutti quanti un bel saluto un buon inizio settimana e buon lunedì allora preparato un metodo da giocare del lotto un ambo ambetto su napoli torino ho detto sul video precedente ho detto milano napoli milano ho sbagliato invece vanno giocati su napoli torino tutti più nazionali mi raccomando sempre i nazionali ok non si sa mai napoli torino tutti ok questo ambo da giocare e poi si gioca lo dico di nuovo anche questo questo video si gioca il martedì il giovedì il sabato il lunedì prossimo compreso lunedì prossimo queste previsioni qua ok compreso lunedì prossimo perché il venerdì è festa adesso faccio vedere di nuovo anche qua su questo video ok ah questo è super nel lotto scusate si super nel lotto ho sbagliato si però anche penso anche il lotto si fa stessa cosa penso però mi informare di più ok allora andiamo avanti con le nostre previsioni eccoli qua la nostra ambo da giocare i ragazzi il 3 in 90 3 in 90 da giocare su napoli torino e tutti più nazionale ok avete visto che è uscito la settimana scorsa 11 è uscito il suo barico dato è uscito il 11 e 39 io ho messo 11 e 37 e per troppo il lambo non è uscito e poi quelli che hanno vinto con la data di nascita già le persone abbastanza hanno vinto con la data di nascita di nascita scusate grazie di la loro fiducia e grazie di il la mancetta che mi mandano grazie 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 sono contento per loro mettete un bel like ragazzi mettete sempre un bel like così vado avanti con le mie previsioni e sempre quando posso faccio anche la data di nascita sempre quando posso ok mi raccomando ragazzi mi raccomando voi giocate sempre poco sempre un divertimento e non voglio che buttati via i soldi ok ok ragazzi e speriamo bene allora 3 90 andiamo a giocare la sul napoli torino tutti stata studiata proprio questa mattina per voi ok e speriamo bene perché voi amanti di 90 io avete visto che è uscito 9 90 su bari io l'ho dato non so se ricordate l'ho dato ancora un mese fa per quattro colpe è uscito adesso mi dispiace ma io di solito 9 90 difficili che credo difficili ma tanto difficili e poi l'ho dato un mese fa circa non so se ricordate è uscito proprio sabato mi sembrava venerdì un sabato si è uscito e qualcuno anzi qualcuno mi ha mandato scontrino mi ha ingraziato perché continuato a giocarlo ok adesso mi ricordo si qualcuno mi ha mandato scontrino è proprio fatto un ambo secco su bari ambo secco mi ha mandato una signora se sul gruppo mi ha mandato grazie carim che ho fatto l'ambo benissimo sono contentissimo sono contento ragazzi ok andiamo avanti a giocare questi fino a lunedì prossimo va bene e poi ci aggiorniamo ok ciao ciao alla prossima buongiorno buongiorno di nuovo amici di canale youtube amici di gruppi tutti quanti un bel saluto un buon inizio settimana e buon lunedì allora preparato un metodo da giocare del lotto un ambo ambetto su napoli torino ho detto sul video precedente ho detto milano napoli milano ho sbagliato invece vanno giocati su napoli torino tutti più nazionali mi raccomando sempre i nazionali ok non si sa mai napoli torino tutti ok questo ambo da giocare e poi si gioca lo dico di nuovo anche questo questo video si gioca il martedì il giovedì il sabato il lunedì prossimo compreso lunedì prossimo queste previsioni qua ok compreso lunedì prossimo perché il martedì e venerdì è festa adesso faccio vedere di nuovo anche qua su questo video ok a questo è il supernare lotto scusate sì supernare lotto ho sbagliato sì però anche penso anche lotto si fa stessa cosa penso però mi informare di più ok allora andiamo avanti con le nostre previsioni eccoli qua il nostro è la nostra ambo da giocare i ragazzi e il 3 in 90 3 in 90 da giocare su napoli torino e tutti più nazionale ok avete visto che è uscito la settimana scorsa 11 è uscito subare codato è uscito 11 e 39 io ho messo 11 37 e per troppo il lambo non è uscito e poi quelli che hanno vinto con con la data di nascita già le persone abbastanza hanno vinto con la data di nascita di nascita scusate grazie di loro fiducia e grazie di la mancetta che mi mandano grazie 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 sono contento però mettete un bel like ragazzi mettete sempre bella e così vado avanti con le mie previsioni e sempre quando posso faccio anche lavoro la data di nascita sempre quando posso ok mi raccomando ragazzi mi raccomando voi giocate sempre poco sempre un divertimento e non voglio che buttati via i soldi ok ok ragazzi e speriamo bene allora 3 90 andiamo a giocare su napoli torino tutti stata studiata proprio questa mattina per voi ok e speriamo bene perché voi amanti di 90 io avete visto che è uscito 9 90 su bari io l'ho dato non so se ricordate l'ho dato ancora un mese fa per quattro colpi è uscito adesso mi dispiace ma io ho di solito 9 90 difficili che ne vedo difficili ma tanto difficili e poi l'ho dato un mese fa cerca non so se ne ricordate è uscito proprio sabato mi sembrava venerdì sabato si è uscito e qualcuno anzi qualcuno mi ha mandato scontrino mi ha ingraziato perché continuato a giocarlo ok adesso mi ricordo si qualcuno mi ha mandato scontrino e proprio ha fatto un ambo secco su bari ambo secco mi ha mandato una signora si sul gruppo mi ha mandato grazie carim che ho fatto un ambo benissimo sono contentissimo sono contento ragazzi ok andiamo avanti a giocare questi fino a lunedì prossimo va bene e poi ci aggiorniamo ok ciao ciao alla prossima